Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 17 settembre di Globus Television Martedì, perturbazione in arrivo Tempo conseguenza all'insegna di cielo coperto, nel corso del giorno probabili piogge in provincia di Messina, sull'Agrigentino e in provincia di Palermo, Ragusa e Siracusa Temperature massime fino a 26 gradi Mari, Martirreno mosso, Marioni o poco mosso, stretto di Sicilia molto mosso Grazie